Buongiorno, tralasciando il mio aspetto, poi comunque tutta la parte di quello che mi è successo questi giorni ve la rispiterò più avanti Oggi volevo fare questo vlog, soprattutto per una grossa novità Cioè, ve l'avevo già accenato in realtà e oggi mi è arrivato, quindi Oh, I'm so happy E di cosa stiamo parlando? Del mio mega autore galone E non si vede ancora ma Ho preso l'iMac, eccolo qua, finalmente il computer fisso per dei video decenti E ho preso, copriamo tutti i dati, ho preso il 21,5 con display retina che non si legge Anche perché mi sono detta lo faccio, lo faccio bene e qui ho preso quello retina E adesso lo apriamo insieme, praticamente lo metterò qui Se c'entra lo schermo perché non ho calcolato le misure, comunque Sì, ce la dovremo fare Questo qui invece poi lo dovrò pulire completamente, cioè tipo da qualsiasi cosa c'è all'interno E lo utilizzerò soltanto per cose più leggeri, non per editare i video come invece farò con questo Quindi adesso lo andiamo ad aprire Visto che vi avevo promesso che quando mi sarebbe arrivato avrei fatto qualcosa, un video, un vlog Quindi allora, si apre la linguetta All right Aspettate che con una manotola ho paura di farlo cascare Poi in questo periodo sono un po' debole, quindi se cascasse poi chi lo prende non lo so Apriamo Ok Oh my god Allora, qui ci dovrebbe essere la tastiera E il mouse Appoggiamolo lì Poi Questo si dovrebbe aprire Come si apre? Non lo so Di pancia Ok Ecco qua, niente di più semplice Oddio guys Questo è il pc Ed è la parte che in realtà pesa un po' di più Ecco, ho già tipo scassato qualcosa Facciamo che lo tiro fuori e poi ve lo faccio vedere Ok guys Diciamo che è un po' grande Però rispetto a come me l'aspettavo si può fare E ho tolto questa pellicola che c'è di protezione E adesso c'è questa pellicolina In realtà Appena scoperto che si può Tipo cambiare così la profondità Non so se è riuscito a vedere Io pensavo Ecco, oddio è rotto E invece no E allora Qui dietro c'è da togliere questa plastica Ma penso che lo farò dopo Però adesso tolgo questa dello schermo Poi qui dietro ci sono tutte le varie entrate Poi la cosa figa è che ha soltanto un filo Che va qua dietro Per il resto è tutto wireless Ah ragazzi ma dobbiamo aprire la tastiera Mi metto un secondino qua Scusate ripeto l'aspetto ma Questi giorni mi sono ripresa Dall'intervento che ho fatto E poi ve ne parlerò meglio Comunque vi dico soltanto che è un intervento Io sono tornata a casa sabato scorso E oggi è mercoledì E una settimana fa io mi sono operata E sto benissimo come potete vedere A parte la faccia Comunque per il resto va bene Allora apriamo la tastiera Oh my god Sono emozionatissima di sentire com'è Mamma mia Ragazzi è leggerissima No è fantastica Poi io ho l'altro computer Che è un computer americano E quindi c'ha la tastiera americana Qui tra l'altro c'è un cavetto Per cosa? Tipo quelli dell'iPhone Non so Per cosa serva sinceramente Non ho idea Vabbè E qui c'è il magic mouse O non si chiama magic Forse quell'altro è il magic pad Vabbè Questo è il mouse Ma è fighissimo ragazzi Sono emozionatissima Perché comunque appunto ci lavorerò molto meglio I video verranno meglio Sarà tutto meglio Non so come altro dire Quindi tolgo la plastica Attacco i fili E ci vediamo all'accensione Ok Cavetto agganciato Adesso devo soltanto Trovare il modo per accenderlo Ok l'ho trovato Si dovrebbe accendere Oh god Poi ho staccato il cavetto del macbook E dopo lo andrò a sistemare Insieme a tutto questo bordello Naturalmente tutte queste cose della scatola Le tengo Perché tra un po' Qual fatto che dovrò rifare la camera Sicuramente il computer Poi dovrò staccarlo E metterlo almeno tipo per un paio di giorni Nella scatola Quindi devo assolutamente tenerla Ma per qualsiasi venienza Allora ho messo tutti i dati E si sta configurando Ho agganciato la tastiera Il mouse col bluetooth E adesso sto solo Aspettare che si accende No ragazzi Mo' la macchinetta Non è 4k Quindi non si vedrà Però dovete capire Quanto cavolo è Saturato Cioè i colori sono tipo wow Infatti oggi pomeriggio Mi ci vedo un bel filmetto Comunque sono Netflix Ultimamente Non ve l'avevo neanche detto Ho fatto l'account Netflix Anche perché da brava appassionata Di serie tv e film Come potevo non averlo Poi cioè raga Parliamoci chiaro 8 euro al mese Cioè non sono niente Wow Cioè la definizione Per quanto è definito Non riesco a guardarlo Quindi pensate a che punto siamo Poi questo computer È una versione diversa Di processore Rispetto al MacBook Quindi dovrò imparare Sicuramente qualcosina Nel mentre adesso Provo subito ad andare su Safari No vabbè ma enorme Il mio canale è enorme Ragazzi Che figata Non ci posso credere Onorina Andiamo su Onorina Ah devo sentire anche l'audio Com'è Ora sarà tipo sparato Aspettate che abbasso un po' Oddio Buongiorno È stranissimo Ok eccoci giunti nel mio account Qui ho appena scoperto che tipo Su Netflix l'ho scoperto oggi Quindi pensate un attimo Ci sta Rain Che sapete che è il mio amore Adesso l'ho finito Devo iniziare una nuova stagione H2O c'è ragazzi Mitico E infatti Netflix ha fatto una serie Che si chiama Macomermades Vita da tritone Che lo sto guardando Anche se è un po' Per bambini Ma comunque mi piace Poi volevo iniziare anche The Crown Perché mi piaceva un sacco Poi Netflix è fatto benissimo Non so perché non l'ho fatto prima Questa è stata la mia grande domanda Adesso vado a mangiare Anzi vi porto come vi faccio vedere Perché oggi cambia programma alimentare Quindi dopo una settimana dall'operazione Posso mangiare cose un po' più solide Prima mangiavo soltanto brodini Proprio solo brodini Vabbè a questo punto lo dico Cioè ragazzi Tanto poi farò un video bene sul canale E ve ne parlo proprio bene Perché magari a qualcuno interessa Mi sono operata E ho fatto la sleeve gastrectomy Che è un'operazione allo stomaco Lo stomaco praticamente è una sorta di panciona In questa operazione ti tagliano quel pezzo di pancia Che comprende anche delle ghiandole che ti stimolano l'appetito E quindi togliendo tutta quella parte Tu non hai praticamente più fame E vi giuro che è così Io mi sono svegliata dall'operazione la sera stessa E praticamente ero già cambiata Cioè mi sentivo già diversa Quindi il mio stomaco adesso è fatto a tubicino Invece di avere tutta quella pancia Quindi naturalmente prima avevo una capacità del 100% Adesso ce l'ha dell'8% Però mi sento molto bene E dall'operazione non ho mai avuto nessun tipo di problema Soltanto la prima sera ho rimesso Ma c'è niente di che Perché comunque non avevo mangiato niente prima dell'operazione Quindi non ho rimesso niente Però avevo lo stimolo Però adesso tutto perfetto E l'unica cosa è che mi hanno messo i punti Sia esterni sia interni Quindi l'unico problema sono i punti Però vi giuro che A parte il fatto che tirano un pochino Proprio adesso perché stanno facendo le croste sui punti Già fortunatamente sono contenta Mi pizzicano un pochino Però per il resto vi giuro che è stata una favola E prima che qualcuno possa dirlo Poi ve ne parlerò anche meglio sicuramente quando farò il video apposito Non è stata la via più facile Non è stata prendere la via più facile Fare questo intervento Anzi secondo me è più difficile fare questo che Andare in palestra dimagrire eccetera Cioè magari per alcuni non sembrerà Ma vi giuro che Sì andare in palestra è uno sforzo fisico Ma questa operazione ha più bisogno di uno sforzo mentale Non è stata presa su due piedi Ci sono state mesi di riflessione Però io sono contenta Della scelta che ho fatto Sono contenta Ho già perso in una settimana E un giorno appunto Ho già perso otto chili Cioè ragazzi è una cosa meravigliosa Poi io non devo neanche perderne tantissimi C'è gente che si opera e deve perdere 60, 70, 80, 100 chili Io devo perderne al massimo 40 Se proprio andiamo in grosse quantità Penso che arrivare a 70 chili sarebbe già qualcosa di incredibile Quindi io sono molto felice E detto questo adesso vado a mangiare Perché anche non so fame Però comunque qualcosa devo ingerire E vi porto con me a vedere Quante cose buone posso mangiare Anzi che da questa settimana posso mettere il parmigiano e l'olio Nella vellutatina E anche lo stracchino E tipo la ricottina E queste cose così Però niente di solidissimo Ecco il cibo di oggi ragazzi Vellutata di patate e zucchine Con un goccettino di olietto E un cucchiaino di parmigiano Yes Stai già in diretta questa prelipatezza Che poi mi sembra pure troppo Oddio dopo una settimana di brudini ragazzi Questo è un passo avanti Però devo mangiarlo piano Sì dai Allora non sembrerà ma Ho mangiato E mi sento piena Quindi adesso torno su Dal mio amato computer Tra l'altro Fatemi pensare se vi devo dire Qualche novità Aspettate che sto fa le scale Non riesco a parlare Perché Con i punti e cose Non riesco a respirare molto bene Pasticchetta Sono tutte pasticcherose Cioè è una figata Adesso vi faccio vedere i cerotti Dei punti Sono 5 punti Perché mi hanno Operato in La baroscopia Che sarebbero Dei tubicini Con dei meccanismi Insomma che ti fanno Ti permettono di operare Senza incidere Perché Sarebbe stato un casino Vedete Questo ha Un cerottino Sotto a questi cerottini Ci stanno i punti Cerottini cambiati Ogni giorno Disinfettati Però ripeto Già stanno guardando E tutto quanto E poi in più Ho i punti interni Per la sudura Dello stomaco Tra l'altro Io sono sempre stata Una persona Che beve Tantissimo E sempre acqua naturale Non ho mai bevuto frizzante Quindi non c'è stato Nessun tipo di problema E praticamente Mi sono ritrovata A riuscire a bere Un bicchiere al giorno Quando io ne bevevo Tipo un litro e mezzo Due E quindi è stato Un grande cambiamento Quella è stata Penso la cosa Che mi ha dato più fastidio Voi direte Se sei operata Se sei stata in terapia intensiva Perché La sera dopo l'operazione Sono stata in terapia intensiva Cavoli e cose varie E E poi c'hai problemi con l'acqua Sì C'ho problemi con l'acqua Allora Ho scaricato Final Cut Anche se non sono riuscita A trovarlo Tipo Craccato Quindi ho scaricato La versione Gratis Per 30 giorni Quella ufficiale E poi insomma Vedrò Adesso per 30 giorni Avrò questo Poi vedrò E sto editando il video E' una figata Editarlo così Perché si vede Enormissimo C'è la qualità Sembra tipo Aumentata Anche se Sono gli stessi file Ad esempio Però Comunque sia È molto strano Per un sacco Però mi sto un attimo Organizzando Tra la tastiera Mouse Perché prima Facevo tutto Con Con le dita Su questo qui Vedete che c'è solo Questo lance qua Adesso lascio un attimo In sospeso Tanto ho appena iniziato Ad editarlo Questo video L'avrete visto giovedì Se non l'avete visto Ve lo lascio Nella scheda info Visto che oggi Cioè di solito Questi giorni Sto uscendo E sto andando a fare Tipo delle poste giocate Però Oggi mi fanno malissimo Le gambe Non so per quale motivo E quindi vado un attimo In giardino Per prendere Una bocchetta d'aria E quindi Esco un attimino Sarò Pallidissima Ve lo dico Già da adesso Esco senza giacchetto Perché tanto Qua è riparato Cioè se mi esponessi Tipo a quel pezzo Del giardino Sarebbe un pochino Più freschetto Però qua È abbastanza riparato Come vedete Sono tutta bianca Insieme a cose bianche Eccolo Ciao Ciao Eila Oddio Ah Sessimone Tra l'altro Prima sono salita in camera Vi ho detto Vi dovevo dire qualcosa Cioè se c'era qualcosa Vi dovevo dire E mi è venuto appena Adesso in mente Che Praticamente Non so se siete rimasti Aggiornate Con la questione Ilaria E la patente Praticamente Con i punti Che mi tirano No Questi giorni C'avevo tipo una lezione Ma Non l'ho potuta fare Perché appunto Non lo riuscivo Proprio fisicamente Adesso che sta un po' meglio Comunque domani Penso riprenderò A fare qualche lezione Però con mio padre Non con l'istruttore Invece poi il 23 Oggi mi sembra sia 18 Il 23 C'ho Una guida con l'istruttore Che è l'ultima guida E poi il 25 Alle 2 Di pomeriggio Ho l'esame Pratica L'ultimo esame E spero tanto Di passarlo Perché Una cosa che mi sono promessa E voi direte Sei una stupida Però Sì Non lo so Mi è andata di farmi Questo tipo Autofioretto No Non so se poterlo definire In questo modo Comunque sia Mi sono promessa Che sarei andata Dal parrucchiere Solo e soltanto Quando avrei preso La patente Con la macchina Perché con quel parrucchiere Dove vado Quello dove lavora la Jordi E comunque Sta vicino a casa E quindi Insomma Adesso io devo stare Con questi capelli Che Non so se ci intendiamo Hanno comunque Due centimetri Di ricrescita Finché non prendo La potente Quindi Cioè se A questa botta Io non la dovessi prendere Devo aspettare Un altro mese Un giorno Oh mio dio Sarebbe una cosa drastica E io in realtà Mi sento molto pronta Molto preparata So che so guidare bene E quindi Insomma Ho fatto parecchie lezioni Sia con l'istruttore Sia con mio padre E alla fine Quello che mi sembrava impossibile È diventato molto possibile Naturalmente La cosa più importante Ve lo dico Anche per chi Magari deve iniziare A fare qualche lezione Eccetera È stare sempre Attenti Con centomila occhi Cioè vi giuro Perché vi può capitare Qualcuno da dietro Che mi fa qualcosa Oppure di lato Davanti Cioè non si sa mai Quindi la cosa più importante Secondo me È stare concentrati E sapere bene Naturalmente i pedali Poi il resto viene Piano piano da sé Scalare le marce Prima di girare E retromarce Eccetera Eccetera I parcheggi Io sono Ve l'ho sempre detto Sono un tipo Molto preciso Quindi i parcheggi Sono una cosa che Fortunatamente Mi era abbastanza bene L'unica cosa appunto Che mi metto Che mi metto un po' di ansia È fare questa Quest'esame Con l'operazione Ancora non proprio Assestata al cento per cento Mi sento comunque bene Perché L'unica cosa Che non riuscirei a fare Proprio alla grande Sarebbe girarmi Per fare il parcheggio Quello in retromarcia Perché comunque Ripeto i punti Mi tireranno un pochino Però visto che l'esame Dura un quarto d'ora massimo Per ogni persona Penso di riuscirci Abbastanza Insomma Poi speriamo Vediamo se quel giorno Farò tipo un vlog Così vi Vi racconto un po' Vivete lo stress con me Perché tanto insomma Mi sembra che anche Quando ho fatto L'esame di Teoria Cioè quando l'ho passato Vi ho fatto il vlog Comunque Sono felicissima E sono Emozionatissima E tra l'altro Io Non so se avete presente Il video Quello Guido per la prima volta Ecco In quel video Ho fatto vedere La macchinina Quella di mia nonna Che uso per fare le lezioni Sempre tutte le volte Con mio padre Ho deciso Insieme a mia madre Insieme a mio padre Che prenderò Una macchina nuova Appena prendo la patente Però Diciamo che è una macchina Un po' particolare Non so ancora bene il modello Devo vedere bene Però comunque Una macchina nuova Che ha una Cosa dietro Un po' particolare Poi vi spiegherò Quando la prenderò Comunque farò un vlog Anche di quello Perché è una cosa emozionante E non vedo l'ora Di avere la patente Perché così potrò Andare al cinema da sola Ogni volta che voglio Oppure al centro commerciale Cioè Figata Altra cosa di oggi Se sentite Gwenda che va E mia sorella Che urla Cosa strana Oggi sono ricominciate Le scossette Di terremoto Da stamattina Io ne avevo sentita una Mia madre faceva No ma ti pare Io non l'ho sentita Ma io stavo ferma L'ho sentita Ok cambio Perché sta facendo Un po' freschetto E praticamente Ci stanno Delle scossette Di terremoto All'Aquila Le scosse sono state Di 5.5 5.6 Comunque alte E contate Che quello che si è sentito Tantissimo Mi pare Quest'estate Fosse stato Comunque Era di tipo 6.2 Quindi neanche Di tanti gradi Differenza E quindi Si è sentito Un casino Essendo che Comunque sta All'Aquila Sta molto vicino E contate Che questi giorni Noi dovevamo andare Anche a casa In montagna Perché noi abbiamo Casa Scanno Non c'è chi di voi La conosce Sta vicino Pescara Abruzzo Insomma così E se questi giorni Fossimo stati là L'avremmo sentito Tipo tantissimo Meno male Che non ci siamo potuti Andare per il fattore Delle strade chiuse Per la neve E eccetera eccetera Tra l'altro Questo vlog sarà Penso abbastanza lungo Perché È da un po' Che non ne face uno Non vi raccontavo Cosa mi era successo L'operazione Eccetera Anzi Qualcuno di voi Scrive un commento Se appunto Vuole il video Dove spiego bene Quello che ho fatto Magari Qualcuno deve fare Questo tipo di operazione E può essere Un modo Carino Spiegato da me Naturalmente Non in termini tecnici Perché io non sono un medico Mettiamoci le mani avanti Poi vi spiegherò tutto In quel video Quindi se siete curiosi O mettete un pollicino in su Così capisco O altrimenti Potete scrivere Dei commenti Iscrivete Sì al video Sulla sleeve Eccetera Eccetera Allora Volevo in realtà Finire il vlog di oggi Perché Sono stata Da quando ci siamo lasciati Al computer E sono andata A fare una passeggiata Mi ero dimenticata Di vloggare Per il semplice fatto Che era Attaccata Alla carica E tipo Me l'ero completamente Dimenticata Adesso mia madre Mi fa Non lasciare La macchina sul termosipone Che li ho accesi E tipo Ho fatto Damn Mi sono scordata Comunque Sto guardando Di wolf Mi sto recuperando Le due puntate Che mi ero persa Mentre ero in ospitale E nel mentre Ho fatto un po' Di pulizia Anche se non sembra Ma ho tolto Delle cose dietro Così ho spostato Un po' Il computer Un po' Più giù Che tra l'altro Non so perché Questa è la versione Da 21.5 pollici Che è la più piccola Della iMac Ma io mi ricordo Avendone visti Già altri modelli Anche da Giulia Ad esempio Queen Bee Ciao amore Ti saluto Mi sembravano più piccoli E infatti sono stata A cercare sulla scatola Se magari avevano sbagliato E invece niente Quindi sarò io Che magari mi devo abituare Sicuramente è tutto quello Poi stavo bevendo La mia acqua Dal mio bicchiere Super Scream Queens Cioè guardate quanto è bello Primark E niente Quindi per oggi Abbiamo finito Questo vlog Comunque adesso Io sono le nove e mezza Mi vedo l'altra puntata E poi vado a dormire Tanto quindi That's all Spero questo video Vi abbia fatto piacere Io vi mando un mega bacione E ci vediamo al prossimo Vlog Barra video Ciao